Il nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Viene divina volontà a pregare in me. E poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero darti tutte le creature. E a Divina Maria ti amo nella divina volontà, Regine Immacolata, Celeste e Madre mia. Vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti che sospiri i più ardenti. Che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in essa affinché non sia più deserto. Ma popolato dai figli tuoi, perciò, sovrana regina, a te mi affida affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, grazia plena Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus. E benedictus fruttus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pronobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre. Amen. Da Libro di Cielo, volume 29 7 settembre 1931 L'appello a tutte le opere uscite dal Fiat La vita palpitante della creatura in essa Protezioni, voce parlante, assalitori La mia povera mente, girando negli atti fatti dalla divina volontà, va rintracciando tutto ciò che essa ha fatto per riconoscerli Amarli, apprezzarli E poi offrirli come il più bello omaggio alla stessa divinità Come frutti degni delle opere sue Ma mentre ciò facevo, il mio dolce Gesù mi ha detto Figlia mia, come mi hai gradito al mio cuore Come mi suona dolce al mio dito il tuo rintracciare tutto ciò che ha fatto La mia divina volontà Per riconoscerlo, amarlo E darcelo come il più bello omaggio dell'amore Che abbiamo avuto per le creature Nel creare tante cose per amore loro L'anima tua può rintracciarle Suona il campanello Come per chiamare All'appello tutte le opere uscite dal Fiat divino Per dirci Quante belle cose hai creato per me Per darmele come doni e pegni del tuo amore Ed io facendo le mie te le ridono Come doni e pegni del mio amore per te Sicché sentiamo la vita palpitante Della creatura Nelle opere nostre Il suo piccolo amore scorre nel nostro E lo scopo della creazione è realizzato Conoscere le opere nostre E lo scopo per cui furono fatti È il punto d'appoggio della creatura Dove trova una volontà divina in suo potere Ed è il nostro pretesto Per darle altre sorprese Di nuovi doni E grazie Ed io Amore mio Un pensiero mi affligge Temo che mi manchi La continuazione dei miei atti Nella tua divina volontà Ed interrompendo il suono del mio campanello Tu offeso da me Mi metta da parte E non mi darai più grazie Di farmi vivere Nella tua volontà E Gesù Asso è giunto Figlia mia Non temere Tu devi sapere Che è un passo da vita Dell'altro passo Un bene È vita e sostegno Dell'altro bene Un atto Chiama vita Un altro atto Ed anche il male La colpa È vita di altri mali E di altre colpe Le cose non restano mai isolate Ma hanno quasi sempre Il loro seguito Il bene È come il seme Che tiene la virtù generativa Purché si abbia la pazienza Di gettarlo nel seno della terra E sovruttura Del 10 Il 20% E così la creatura Se avrà pazienza Starà attenta A chiudere nell'anima sua Il bene Che essa stessa ha fatto Avrà la generazione La molteplicità E il centupro Degli atti buoni Che ha fatto E se tu sapessi Che significa Fare un atto buono Ogni atto È una protezione Che acquista È una voce parlante Innanzi al nostro trono Per chi ha fatto un bene Ogni atto In più di bene Tanti difensori Di più Tiene la creatura A sua difesa E se le circostanze Della vita La fanno trovare In tali strettezze E cimenti Che pare che voglia Vacillare e cadere Gli atti buoni Che ha fatto Prendono l'aspetto Di assalitori E ci assalgono Finché chi ci ha amato Ed ha avuto Un seguito Di molti atti buoni Non vacilli E corrono intorno Alla creatura Come sostenitori Affinché non ceda Nel cimento Supponi che ci fossero Stati una sequela Di atti fatti Nella nostra volontà Oh Allora in ogni atto C'è un valore E una virtù divina Che difende la creatura Vediamo in ogni suo atto Come è compromessa La nostra volontà Quindi noi stessi Ci facciamo Difensori E sostenitori Di colei Che ha dato vita Negli atti sui Del nostro fiat divino Possiamo forse Negare nulla A noi stessi O disconoscere La nostra volontà Operante nella creatura No no Perciò non temere Ma piuttosto Abbandonati Come piccola neonata Nelle nostre braccia Finché tu senti Il nostro sostegno E la protezione Degli stessi atti Tuoi Credi tu che sia un nulla Un bene ripetuto Continuato Sono proprietà divine Che si acquistano Sono eserciti Che si formano Che fanno Acquistare La patria celeste Succede a chi ha Continuato Tanti atti buoni Come a colui Che ha acquistato Molte proprietà Se costrui Ha un rovescio Non gli potrà Nuocere tanto Perché le molte proprietà Riempiranno il luogo Del rovescio Che ha sofferto Ma se invece Un altro Poco ha acquistato O nulla tiene Basta un piccolo rovescio Per gettarlo Sul lastrico Della più squallida miseria Tale è il fare Molto bene Oppure Poco O nulla Perciò ti ripeto Sempre Sii mi attenta E sii mi fedele Ed il tuo oro Nella mia volontà Sia continuo Dopo di ciò Ho soggiunto Figlia mia Tu devi sapere Che quando tu ti vai Disponendo a fare I tuoi atti Nella mia divina volontà Essa resta concepita Nell'atto tuo E come lo fai Le dai il campo Per formare La sua vita Nell'atto che fai Non solo Ma i tuoi atti nuovi Servono di alimento A quelli già fatti Perché la mia divina volontà Essendo vita Sente il bisogno Quando è stata racchiusa Negli atti della creatura Di aria Di respiro Di palpito Di alimento Per crescere la stessa mia volontà Nella creatura Vedi dunque La grande necessità Nella continuazione Degli atti Per farla vivere E regnare Nella creatura Altrimenti Il mio volere Ci troverebbe A disagio Senza il pieno Trionfo In tutti gli atti Di essa Bene amici Iniziamo la meditazione Su questo brano Che culmina Che ruota Più che culmina Rittorno al concetto Fondamentale Un concetto Non molto Difficilmente Comprensibile Anche per quello Che riguarda La vita naturale Ma che dobbiamo Imparare A comprendere Tesaurizzare Anche per quello Che riguarda Soprattutto Per quello Che riguarda La vita soprannaturale E La vita Nella divina volontà In particolare Ora Qual è la legge Facciamo un passo indietro Qual è il passo Del Vangelo Uno dei passi Del Vangelo Molto Molto Importanti Gesù dice una cosa Non potete servire Dio e il denaro Come mai Ci siamo chiesti Come mai Come mai Il denaro È così Pericoloso È così Opposto Al Vangelo E quindi Non è detto Che tutti quanti Ricchi siano brutti E cattivi Ma Devono comunque Stare molto attenti Perché Gesù Ha detto Difficilmente Un ricco Entra nel regno Di Dio Rincarando Poi la dose Addirittura Di per sé Stante Al corso Delle cose È più facile Che un carmello Passa dentro La gruna Di un ago È vero Che poi I discepoli Si stupiscono Dicendo Allora così Siamo rovinati Chi si salva E Gesù E Gesù Ripatte Impossibile Agli uomini Ma non presso Dio Ma come mai Ci siamo mai chiesti Come mai È così St'argomento Del denaro Tra l'altro Spesso Poco Approfondito Dai Fedeli È così Decisivo Non potete Servire Dio Del denaro Quindi O l'uno O l'altro O Non si possono Servire due padroni Perché oggi Si attacca All'uno E si odia L'altro Oppure si odia l'uno E si disprezza l'altro Qual è il Il punto fondamentale Qualcuno pensierà Ma che c'entrano Queste cose Abbiamo fatto stamattina Ma sembra che si parla Di queste cose Non direttamente Ma Quello che il Signore Ci dice Attraverso il brano di oggi È sapramente una cosa L'attenzione A Moltiplicare Il più possibile E con costanza E con ripetizione Continua Gli atti buoni E in particolare Gli atti Nella divina Volontà Questo è il senso Della amministrazione Della amministrazione Di oggi No Credi tu che sia un nulla Un bene ripetuto Proprietà divine Che si acquistano Tale è il fare molto bene Oppure poco o nulla In ogni atto C'è un valore Se quella Di atti Fatti Nella nostra volontà E allora Che c'entra Con il discorso Che abbiamo fatto C'entra come Perché I soldi È un accumulo Di ricchezza Terrena Per soddisfare Come dire Sfizi Diletti Divertimenti E piaceri Terreni È chiaro Che per fare Un sacco Di soldi Io devo Metterci Punto Primo Devo impiegarci Un sacco Di tempo Punto Secondo Devo pensarci Cioè Non deve avere Quasi altro pensiero Punto Terzo Ricordiamo Vangelo Quando era Due settimane fa Una settimana fa Della parabola Della disonesta Ricchezza L'amministratore Disonesto Quindi molte volte Si deve anche Scendere a compromessi Ma il problema È che Chi fa Questo qui Che cosa succede Che Accumula Patrimoni Pazzeschi Perdi qua E quindi Che cosa succede Che siccome La giornata dura 24 ore E il cuore dell'uomo è uno Se tu opti Per questa soluzione Cosa succederà Che non Accumulerai Beni per di là Cioè Attenzione Cioè La scelta di fondo Che Noi dobbiamo fare Non soltanto In quanto Come dire Aspiranti Ad entrare In regno Della divina volontà Ma anche Un fedele cattolico Che Voglia Mettere al sicuro Per esempio La vita eterna Oppure Che voglia Tendere alla santità Cioè Noi dobbiamo diventare Mi si passi Questo termine Capitalisti Del cielo Eh Facciamo così Potremmo pure dare A questa meditazione Questo titolo Alternativo Così I capitalisti Del cielo Cioè Avete visto Immaginiamo Un riccone Un Jeff Bezos Per esempio Dico sempre Che quell'uomo lì Se campasse Mille anni E si volesse Togliere Tutti gli sfizi Possibili Immaginiamo Proprio tutti E poi tipo Comprasse Quattro jet Privati Diversi L'elicottero E che caspita Ne so Che ne so Qual è Un atollo Che ne so Se compra un atollo Che ne so Un atollo Alle Maldive Cioè Un castello Che ne so Lo yacht Da 25 metri Da 40 metri Con 50 persone Di equipaggio Che te costerà Che ne so De 10 miliardi L'anno Non gli basterebbe Il tempo Per scialarsi Tutto quello Accumulato Non gli basta Anche perché Come si immagina Lì c'è Un rifornimento Continuo E pazzesco Quindi non è soltanto Già se tu si fermasse A quello che c'ha Non Ma quello Che era alimentato Ogni giorno Capita Perché a un certo punto Non sa più mai Che face Che ce fai Che te vuoi comprare 40 Ferrari Cioè Dopo dovrai andare a fare Deve andare a fare Deve andare a fare Le cose veramente Da pazzo Se ti piace la Ferrari Te ne compri una Se ti piace lo yacht Te ne compri uno Se ti piace il jet privato Te ne compri uno E già stiamo parlando Di cifre Ma Una Ferrari A Jeff Bezos È come se io Dessi 10 centesimi A un poveraccio Che mi viene a pulire Il vetro per la strada Queste sono le proporzioni Ah noi pensiamo Ah beato lui Qualcuno pensa Beato lui Pensa male Pensa D'accordo Perché quando sarà morto Jeff Bezos Che succede Adesso speriamo di no Io adesso non voglio giudicare La persona Adesso sto facendo un nome Può darsi poi Che sia un santo Io glielo auguro Insomma Che sia una Che faccia tanta beneficenza O questo Non lo so Adesso no Non conosco la sua vita privata Non conosco nulla Insomma no Quindi non L'ho nominato Non per mancare la carità Nei suoi confronti Evidentemente Ma per fare un esempio Che è abbastanza conosciuto Chi non lo sapesse Jeff Bezos È fondatore di quel colosso Pazzesco Che è Amazon No Ora però Uscendo dal nome No Una persona Che avesse fatto Solo questo Nella vita E senza pensare A nient'altro Ed è difficile Non impossibile Per questo Speriamo che lui Ci sia riuscito Però Che uno abbia La possibilità Di pensare A qualcos'altro C'era anche Che cosa succede Succede che ha fatto Un sacco di soldi Si è tolto Un sacco di sfizi Ma che ha fatto Gli atti Nella divina volontà Ha fatto Ha fatto le opere buone Ha fatto le opere sante Quelle che riguardano Dio Che ne so Ogni volta che noi andiamo Alla Santa Messa Per esempio La Santa Messa Amici Per le anime buone Certamente È un grandissimo piacere Però di per sé Sappiamo che cos'è la Santa Messa La Santa Messa È Un sacrificio Il sacrificio Non un sacrificio L'unico sacrificio Gradito al Signore Che viene offerto a lui Ma offrire sacrifici È un atto dovuto Nei confronti dell'Altissimo Perché è un atto Della di studiore di giorno Quindi Se io vado alla Messa Offro a Dio L'unico sacrificio Che a lui Gli ha gradito E Quando vado a Messa Questo ricordiamolo Nonostante che l'offertorio Del nuovo soldo Sia veramente diventata Una cosa streminzita Però durante l'offertorio Ricordiamoci Se qualcuno fa Dei sacrifici personali Di ogni genere Piccole e medie Grandi rinunce Che offre al Signore Quello è il momento Per portagliere Perché L'offertorio Da un punto di vista liturgico Come dice la preghiera Che almeno quella È rimasta ancora No pregate Perché il mio E il vostro sacrificio Sia gradito Cioè Noi Durante la Santa Messa I nostri sacrifici Piccoli e grandi Che offriamo al Signore Perché lo amiamo Perché se li merita D'accordo Forse anche la rinuncia Che ne so A un condimento Superfuo Guarda È un piccolissimo sacrificio Poi ci stanno quelli medi Poi ci stanno quelli grandi C'è chi fa il digiuno C'è chi fa tante cose Allora il sacrificio personale Viene portato al Signore Nel sacrificio della Messa Andare a Messa È compiere un atto Gradito al Signore Perché Si Esercita Il nostro dovere Che almeno in forma minima È necessario Infatti per questo Che andare a Messa Perché andare a Messa La domenica è obbligatorio Secondo la legge della Chiesa Sotto pena di peccato grave Perché noi I sacrifici a Dio Gli dobbiamo offrire Cioè Il sacrificio È un atto Dovuto a Dio In forza Della virtù della religione Che è La parte principale Della virtù cardinale Della giustizia Non è che è un atto A Dio Il sacrificio Bisogna offrirgli Perché il sacrificio È l'attestazione Della sua Suprema Messa infinita Del fatto che a lui Tutto è dovuto Che lo ringrazio Per tutto quello che ho ricevuto Ma non solo Gli offro per espirare I miei peccati Gli offro per ottenere Le grazie Per tutti questi motivi Gli hanno offerto Il santo sacrificio Della Messa Per questo motivo Gesù Cristo è morto in croce Per tutti questi motivi Gesù Cristo è morto in croce Allora Se io vado a tante messe Che succede? Che ho accumulato Tante opere buone Ecco Le tante opere buone Dice Gesù Pensi che rimangono lì? Che cosa succede? Mi producono delle grazie In questa vita E della gloria nell'altro Funziona sempre così Perché ogni opera buona Insegna la Chiesa Che cosa succede? Se tu la compi Ti fa Crescere in grazia Qui C'hai più grazia Diventi più santo Diventi più amico del Signore E cresci in gloria Dopo Perché essendo un'opera meritoria Si è compiuta in grazia di Dio Ma è ovvio insomma Che ordinalmente Che cosa succede? Ti merita un grado di gloria Superiore in cielo Per quanto riguarda gli atti Nella Divina Volontà È la stessa identica cosa La stessa identica cosa Più se ne fanno E meglio se ne fanno Sappiamo bene Che per Per far vivere La Divina Volontà In noi Per entrare in questo mondo Uno dei mezzi Non l'unico E forse neanche il principale Per quanto mi riguarda Spero Se mi sbaglio Il Signore mi correggerà È Moltiplicare gli atti Continuare gli atti La montagna di volte Ce lo siamo In tutti i tanti modi possibili Piccoli e grandi Le piccole fusioni Le grandi fusioni I piccoli atti I grandi atti I ti amo presi Più che ne possiamo Sappiamo che ce ne stanno tanti Quando la mattina Facciamo l'atto preventivo Noi E mi raccomando Io su questo Se mi posso permettere Chi vive nella Divina Volontà Non 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 faccia mai L'omissione Che appena ti svegli Appena ti svegli Il primo atto da fare È quello Così come Mi raccomando sempre Quando uno va a dormire Non si dimentichi mai Di Fare un piccolo atto Di fusione Con la Divina Volontà Perché Anche il sonno Possa essere coperto Certo Poi Dentro questa copertura Diciamo così Globale Il giorno lo copriamo Con l'atto preventivo Il tempo della veglia Lo copriamo Con l'atto di fusione Per andare a dormire Più atti Moltiplico E meglio Perché Qui C'è un moltiplicatore Continuo Cioè La nostra Noi Per fare bene Questa meditazione Per trarne i frutti No Prova a pensare Com'è la tua giornata Com'è Dove sta il tuo cuore Com'è l'organizzazione Del tuo tempo D'accordo In qualunque cosa Tu fai Attenzione Che qua Anche quando uno lavora Anche quando uno fa I lavori professionali I lavori di casa Dice Si viene di lontano Nel mio lavorare No Ma poi Ci possono essere Tante piccole Come dire Sante divagazioni In cui Questa Nostra volontà Di fare tutto Con lui E in lui Si Si rinnova Anche attraverso Dei piccolissimi gesti No Delle piccolissime circostanze Che ne so Se devo andare in un ufficio Passo per strada Alzo e guardo il sole È chiaro Già Guardare il sole O sentire il canto Di un uccellino Oppure vedere un fiore Per la strada Sono Dei piccoli momenti No Che Non è che Che mi distraggono In particolare Questo certamente Più Si acquisisce Una certa Come dire Una certa Scioltezza Non so Come dire Una certa Sì Una certa Facilità Disposizione E tanto più Queste cose Diventano facili Ma questo diventa Relativamente facile Se il nostro cuore Perché questo è il grande problema Di dove sta il nostro cuore No? Gesù dice Quando parla del rapporto Tra Dio e il denaro Dove è il tuo tesoro La sarà anche il tuo cuore Perché se il tuo tesoro È sulla terra Tu pensi alle cose della terra Tu pensi ai piacere della terra Tu pensi ai divertimenti della terra Pensi alla realtà della terra Pensi alle necessità della terra Pensi alle Ai riti della terra Alle constitutini della terra Se il tuo cuore sta in cielo Tu pensi a altro Quanto pensiamo al cielo Quanto desideriamo Andare in paradiso E quanto a tal fine Cerchiamo ogni giorno Di fare il nostro piccolo Sapendo Sapete che L'ho detto altre volte La legge dei mondani Edonisti e godrecci E che ogni lasciata è persa Ma questo vale anche per noi Se il signore manda L'ispirazione Cioè fa Offrimmi oggi Sto sacrificio Io dico Ma non è che a me va tanto Domani E questa è È una lasciata Che è persa La meditazione serve a questo No? Se non hai fatto quella cosa Non voglio far prendere L'angoscia a nessuno Però queste cose Doviamo comprenderle Se sono successe Pazienza Nel senso che Chiediamo un umilmente Perdona al signore Ci dispiace un po' Però non è che Dobbiamo starci a stracciare i capelli E a farne una tragedia No? Pazienza Ecco Però Per il futuro Cerchiamo di farci attenti Ma per il bene nostro Cioè Cioè su questo Dobbiamo fare attenzione Che il bene è il nostro Cioè Io spero che Almeno in chi vive Nella divina volontà Come dire C'è sì Quell'idea Malsana Che quando uno fa Qualche cosa Di sacro Di santo Di religioso Di spirituale Di penitente Dice Ora faccio un favore Al nostro signore Quindi Cioè Questa cosa Faccio un favore Al nostro signore E così Lui è contento E così Sto a posto Che ne so Me levo un pensiero Nei suoi confronti L'ho fatto contento E punto Non è proprio così Anzi Non è affatto così Perché nostro signore Questo mettiamocelo Ben in testa Non è che c'ha bisogno Dei nostri atti La divina volontà Dei nostri sacrifici Delle nostre messe Lui non c'ha bisogno Di niente Tutto questo Diciamo così Tutta questa Montagna di cose Che ci mette a disposizione Che possiamo Noi compiere Sono compiute A nostro beneficio Cioè È chiaro che lui Ne è contento Ma in che senso Ne è contento Ne è contento Perché vede Che un figlio Facendo queste cose Farà una meravigliosa vita In questo mondo E farà una grandiosa vita In cielo Lui che ci ha creato Per questo E se non facciamo Tutte queste cose Ci lasciamo invece Prendere dal denaro E dagli idoli del mondo Noi non faremo Una grandiosa vita Perché la grandiosa vita Tornando agli esempi fatti Non è Avere lo yacht Di 50 metri Il jet privato Il castello personale Il latollo Delle Maldive La spiaggia privata La Ferrari Che caspita Ne so La servi tu E ti abboffi Tutti i giorni Costriche Champagne Che ne so Scampi Mazzancolle Caviale Non è questa la vita Questa non è vita E non dobbiamo avere Nessunissimo Nessunissimo Dubbio Certo Se ci dovesse capitare Che un giorno Un giorno c'è in vita A pranzo E ci offre E che ne so Gli scampi Facciamo un bel ti amo Perché gli scampi Insomma Per chi gli piace Sono soltanto buoni Sono cattivi Ma non è quella la vita È una piccola cosa D'accordo È una piccola cosa A cui Se c'è Quando c'è Ti ricevo il tuo ti amo Gesù mio Da questa creatura Lo ricambi con il mio Ti amo per me Per tutti Grazie che l'hai creata Se uno conosce il libro Di tenere amata Vedrà Si gode Perché questo succede Quando mangiamo Questo può essere La prima Sto capitolo Perché Mangiare Quindi Realizzare questo contatto Cioè Viene realizzato Un contatto Tra l'altro Sopranaporalmente Disposto Tra me Essere umano E quell'animale particolare Che è lo scampo Che io sto mangiando Perché Cioè Il discorso Non è che c'era tanto A capirlo Cioè Io sto mangiando Lo scampo D'accordo Quello è fatto Di certi atomi Ben particolari Che gli danno Quella conformazione Che ha Che gli danno Anche quel sapore Specifico Che ha Nello scampo Attenzione Poi Come in tutti Gli animali C'è L'anima Immateriale Non l'anima Spirituale Come quella Che abbiamo noi E quindi Si realizza Misteriosamente Noi non siamo Consapevoli Di queste cose D'accordo Come di tantissime cose Spirituali Un'unione particolare Tra me E quell'animale Che è anche Che concorre Diciamo così A quel piccolo Diletto Che io provo Quando lo mangio È una È una delle Infinite cose Ma è tra le cose Più piccole Perché I piaceri Della Tavola Che non sono Proprio Disastrosi Insomma Ma Sono Piccoli Più grandi Sono quelli Più grandi Che possiamo vivere In questo mondo Sono i diretti Spirituali Che sono quelli Che si vivono A contatto diretto Con il Signore Chi li ha vissuti Ti sa Le consolazioni Spirituali I diletti Nell'orazione Le chicche Gli uomini Non Cioè Le persone Che ancora Non stanno Un pochino Un po' Addentrate Nella vita Con il Signore Si pensano Che per esempio Le esperienze Mistiche Siano Appannaggio Appunto Dei grandi santi Cosa che è Vera Fondamentalmente Ma Un sacerdote In cura d'anima Lo sa Anche che fa un pochino Di lezione spirituale Va sicuro Insomma Che Tante piccole chicche Non ai livelli Delle grandi estasi O di chissà quale cosa Ma Però Insomma Cose carine Che le persone Te le vengono a raccontare Perché Non sanno Cosa sia Che cosa è stata La mia suggestione Allora Nessuno Può sapere Con certezza Che cosa sia Ma Non c'è niente Da stupirsi Se Quelle cose Percepite Siano Una carezza Che il nostro Signore Ha data A quell'anima Perché Lui ci vuole Tanto bene Per cui Se ce la può dare Una carezza Nel senso Ci sono in noi Le condizioni Per poterla ricevere Le disposizioni Per poterla ricevere E non ci sono Controindicazioni Stabilite Della sua sapienza Nel senso Non è che poi Questo se gli faccio Stretta piccola cosa Si pensa ad essere Chissà chi E ad essere Il grande santo Il grande mistico Ecco Perché molte volte Tutte quante Queste considerazioni Io presumo Che trattengano Nostro signore Dal Concedere Qualche 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 carezza Perché altrimenti Ti farebbe più male Che bene Alla persona Ed è sempre così Noi sappiamo Dagli scritti di Luisa Che Dio sta sempre Trattenuto Nei nostri confronti Nel senso che Ci dà solo Una piccolissima parte Del bene Che se dipendesse Da lui Vorrebbe darci In parte Perché gli uomini Non sono disposti D'accordo Oppure Non lo vogliono Proprio Pensano ad altro In parte Perché Per come Stiamo ridotti adesso Purtroppo Alcuni beni Ci farebbero più male Che bene Non perché Non sono buoni Ma perché Per come stiamo adesso Non saremmo in grado Di poterli Correttamente Ricevere E saggiamente Adoperare Ecco perché Nostro signore È così tirato Ma quando Non ci saranno più Questi tiri In paradiso Sarà una pacchia Che non finisce mai Nel senso Ecco Perché queste cose Però accadono È chiaro che Gesù dice A chi ha Sarà dato Quindi Dove investo io Questo è il senso La mia emozione Di oggi I capitalisti investono Cioè Pensate Quanta gente Invece C'è soldi investiti Non vorrei Che qualcuno Senta questa meditazione C'è soldi investiti E si sente in colpa Cominci a investire E ti investe Investo in questi Investi in quell'altro Gioco in borsa Faccio questo E faccio quell'altro Cosa c'è dietro Questo qui Fare più soldi Oppure mettere al sicuro I risparmi I santi Ci sono qualche Di te ho qualche Perplessità Ci sono qualche Remolo a pensare Che giochino in borsa S2 Che c'è Non so Tutto è possibile Ma i santi Gli investimenti Li fanno altrove Li fanno I grandi Sono tutti quanti Investimenti spirituali Cercano di fare Il pieno delle grazie Per raggiungere Il pieno della gloria Il pieno Certamente Solo una È piena di grazie È piena di gloria Lo sappiamo bene È un pieno Evidentemente Proporzionato Alle nostre condizioni Piccine Alla nostra miseria Però Purché sia il pieno Per te Basta Il pieno Per te Sarà 8 La Madonna C'è numeri infiniti Per quanto riguarda il pieno 8 E per te 8 Cioè Il pieno Tuo È 8 Ma per te Sarà pieno L'importante È che Tu a quell'8 Ci arrivi Mi si perdoni Insomma Se faccio questi esempi Magari un po' Che possono sembrare Un po' Un po' Banali E un po' Nozionistici Li dico certamente Per rendere l'idea Quindi per farmi Per farmi Comprendere No Ecco quindi Tale è il fare Molto bene Oppure Poco o nulla Se uno dice C'è un sacco De sordi spirituali Dice no Dice Se succede Un rovescio Ma che te fa Te fa Nel caldo Nel freddo Perché c'è L'attrezzatura Per poterlo Per poterlo Affrontare Certo che Se uno Le grazie Non c'era Se ti arriva Una tegola Crolla Ecco perché Vuol dire Vuol dire che Non stava Atrezzato Bene Allora il rimedio Per evitare Che se capitano Altre tecole Ripacciamo Qualche fiasco È Investire In grazia Cioè dobbiamo diventare Come Jeff Bezos Da un punto di vista Spirituale Non per i soldi Ma per le grazie Che ci abbiamo Per le opere buone Di cui siamo ricchi Questo è Il senso Della migliorazione Di oggi E questo spero Che in qualche modo Sono riuscito A condividere E a trasmettere E a trasmettere Ti ringraziamo Signore Gesù Per quello che anche oggi Ci hai donato Per come comincia Questa settimana Ottima meditazione Per l'inizio della settimana Perché oggi Ricomincia La giornata lavorativa Su tutti i punti di vista Dopo il riposo domenicale Ecco E possa essere Una grande Settimana lavorativa Nella grazia Per crescere In questo altro Cospetto Per Per fare molto E bene E per poter stare Fin da qui Bene E procurarsi Una grande Gloria In cielo E la divina volontaria Nel nome del Padre Del Figlio E dello Spirito Santo Ti benedico per aiutarti Ti benedico per difenderti Ti benedico per perdonarti Ti benedico per liberarti D'ogni male Ti benedico per consolarti Ti benedico per farti santo Ti benedico dunque Nella divina volontaria Nel nome del Padre E del Figlio E dello Spirito Santo Fiat Ave Maria Grazie a tutti Grazie a tutti